Mirko, prima di tutto come stai? Sei uscito un po' zoppicando, le tue condizioni quali sono? Sì, sono uscito perché mi sono venuti i crampi. Mi dispiace perché volevo rimanere in campo, dare la mano ai compagni, però purtroppo gestendomi durante la settimana non riesco ad avere 90 minuti sulle gambe. Però non ho niente di grave. Ci è mancato davvero poco per questa prima vittoria stagionale. Quanto rammarico c'è adesso nello spogliatoio? Ma tanto, infatti siamo arrabbiati perché è arrivato l'ennesimo gol sul calcio d'angolo, la prendono sempre loro, questo non deve più succedere perché poi dopo ci giochiamo veramente le partite e perdiamo i punti per strada. Facciamo bene, il primo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, l'abbiamo palleggiato, centrocambio eravamo uno in più, l'abbiamo dimostrato e poi dopo prendere gol così fa male, andiamo a casa veramente scottati un'altra volta perché ci dispiace veramente tanto, perché poi anche i tifosi sono venuti, i presidenti in panchina, tutta gente che ci mette tutto. Noi l'allenamento ce l'è, poi dopo ci vediamo sfuggire la vittoria per questo. Però ancora una volta grande sofferenza nel secondo tempo, grande spazio lasciato agli avversari. Che cosa succede? Non ce la fate fisicamente, calate, avete riempito l'area di giocatori? Io credo che, ripeto, il primo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, al secondo tempo ci siamo abbassati, quando ti abbassi poi dopo l'avversario in caso soprattutto comincia a spingere e tu non riesci più a ripartire con la forza che avevi prima, quindi non riesci a occupare il campo come l'hai fatto nel primo tempo. È normale in cui dopo gli lasci il campo, loro sono bravi, attacca la profondità e tutto quanto e noi andiamo in difficoltà, dobbiamo essere più bravi sicuramente a gestire la palla come abbiamo fatto nel primo tempo, però dopo il secondo tempo cambia rispetto al primo perché loro devono spingere, noi dobbiamo difenderci. Secondo me abbiamo avuto qualche occasione nel secondo tempo che dobbiamo chiudere la partita, qualche cross. Non è la prima volta, ma perché sulle seconde palle arrivano sempre gli altri? Questo non lo so, io ti dico oggi non ho visto questa differenza, l'ho visto a Salò ed ero preoccupato a Salò. Io oggi non sono preoccupato perché ho visto una squadra presente, sono preoccupato perché prendiamo un gol sempre sul calcio d'angolo, sul calcio di punizione, questo ci deve far riflettere, ci deve far lavorare meglio durante la settimana quando le proviamo, perché le proviamo, dobbiamo essere tutti arrabbiati per non prendere più gol così. Il cambio di modulo ha dato risposte positive secondo te? Sì, io credo che questa squadra ha dimostrato di stare bene in campo con il 3-5-2 e abbiamo i giocatori che possono fare questo modulo, tutti, perché anche chi entra oggi secondo me ha dato una mano importante e domenica scorsa ho visto invece una squadra che era rinunciataria, oggi non l'ho visto, non posso dire che c'è stata una squadra che non voleva portare a casa la vittoria, dico solo che non deve più capitare questa cosa.